Vuoi davvero imparare come fare magia con le monete? Rimani con me e scoprirai come! Rieccoci qui, il mio nome è Sergio ma mi chiamano tutti Mago Starman. Se non sai chi sono puoi andare a vedere nella schedina che ti lascio qua. Ma adesso ritorniamo in questo video. La tecnica che andremo a imparare oggi si chiama Desvanese. Desvanese è una tecnica che ti permette di far sparire una moneta con il lancio. Questa tecnica viene descritta in questo mio libro che si chiama Il Triangolo No. All'interno c'è un capitolo che si chiama SSCC che sarebbe Sergio Starman Coin Control ed è un gruppo di sei tecniche che ti permettono di creare un'infinità di routine. Un altro vantaggio della tecnica Desvanese è che la potete utilizzare anche come una Retention Vanish. Così, creando l'illusione, a questo punto se ne va. Un'altra cosa che ti permette di fare Desvanese è che potete utilizzare in qualsiasi routine. Potete avere una carta sul tavolo. A questo punto prendete la moneta, la fate sparire e va ovviamente sotto quella carta. Lo stesso potete fare ovviamente con la Retention. Cioè lanciando la moneta, creando l'illusione che solo passando se ne va. E a questo punto ritorna la moneta. A futuro potete anche creare l'illusione che la moneta viene coperta là dentro. Ne prendete una seconda moneta e a questo punto la fate sparire e potete farla ritornare sotto. Come potete vedere questa tecnica ha un'infinità di varianti. Non mi voglio dilungare troppo e entriamo subito a scoprire come si fa. A proposito, se non l'hai ancora fatto, iscriviti in questo canale e attiva la campanella così potrai vedere immediatamente tutti i miei nuovi video. E non ti dimenticare di commentare e lasciare un like. La prima cosa che dovete imparare è di creare questa specie di forma nella mano. Quindi sarebbe tipo un pugno ma quando apriamo le dita deve rimanere così. A formare una specie di 9 visto da sopra. Così. 9 o una P o un 6, dipende dal punto di vista. Però deve sembrare questo. Ok? Perché? Perché questo ci permetterà di mettere bene in vista la moneta che abbiamo poi da lanciare. Quindi a questo punto non rimane altro che imparare bene questo movimento. Quindi lancio e apro. Lancio e apro. Lancio e la moneta, questa mano destra, non prosegue verso il basso ma verso l'esterno. Quindi una cosa così. Ok? Dovete imparare ad esercitarvi con questo movimento. Una volta imparato questo movimento, entriamo nel dettaglio della spiegazione di Desvanese. Come creare quell'illusione. Ma se davvero volete imparare come si fa questa tecnica dovete fare click nel link che vi lascio in descrizione. E dovete inserire questa password per vedere esattamente come si fa. Ci sarà il dettaglio visto dalla parte dietro. Se tu sei davvero interessato e vuoi scoprire davvero come si fa io te la regalo. Però devi entrare in questo link e automaticamente mettendo quella password la vedrai completamente gratis. Ciao. 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 Ciao.